Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo, gran tiro ed è rete! Hanno trovato il gol del vantaggio, la situazione ideale, considerato che basta un punto, basta un pareggio oggi per conquistare arifeticamente la promozione. La piazzata con precisione assoluta. La palla può fare davvero tutto quello che vuole. Grazie per la visione!